La lettura di un testo La produzione del testo è una produzione fonetica. Si pronunciano delle cose che sono una comunicazione verbale, può essere un carme, può essere un inno, può essere anche una banale comunicazione quotidiana che non è trascritta. Il fatto di essere un parlare ad altri significa che il testo si misura nel tempo, ha una durata nel tempo, non ha una durata spaziale, non è una serie di righe, non è una serie di parole, ma è una certa quantità di minuti trascorsi con la produzione di alcuni suoni e soprattutto che non si conserva, perché il testo una volta pronunziato scompare. Non esiste nessun ricordo del testo se non nella memoria di qualcuno che può averlo sentito ma che non può conservarlo per tempo indeterminato. C'è bisogno di una serie di passaggi complessi da persona a persona che provocano alterazioni, modificazioni. Quindi soltanto a un certo punto per necessità di conservare appunto il ricordo di quello che il testo rappresenta nasce la scrittura. E la scrittura nasce con esigenze archivistiche. La prima origine della scrittura è per segnare dei possessi, per indicare delle cose di cui si ha la possibilità di usufruire, quante sono le pecore, quante sono le mucche, quanti sono i piatti, qual è il patrimonio di qualcuno. Col passare del tempo ci si è accorti che questa scrittura, oltre ad essere un puro e semplice ricordo di alcune cose, di alcune persone, di alcuni oggetti, poteva servire a registrare un testo e quindi a conservare al di là della memoria di chi lo ascoltava o di chi lo ascoltava di seconda mano e così via anche quello che è stato detto da qualcuno. Col passare del tempo questo testo scritto acquista un'autonomia rispetto al testo parlato. Finisce col diventare una realtà diversa da quella puramente pronunciata e le regole della scrittura diventano qualcosa di diverso dalle regole della pronuncia. Esiste una normativa dello scrivere che non può coincidere con la normativa del parlare. Ci sono delle regole ortografiche che non hanno assoluta corrispondenza con le regole fonetiche. In tutte le lingue, l'italiano forse è una di quelle in cui meno ciò accade, ma si pensi all'inglese, la differenza tra scritto e parlato è notevole. Esistono dei segni che pronunziano più suoni, che corrispondono nella pronuncia più suoni. Si pensi C e K, dove quella stessa lettera C vale per due suoni differenti. Anche il greco, per esempio, il gamma, in alcuni casi vale G, in altri casi vale N dinanzi a un gamma o a un K. Angelos si scrive con due G ma si pronuncia N, la prima delle due. E ci sono dei casi in cui un unico suono può essere scritto con due diverse lettere. Una C e una K possono avere il medesimo segno per cui Cartago con la C e Cartago con il K era la stessa città. E non c'era una differenza di pronuncia che corrispondesse alla differenza grafica. E si complica anche il rapporto cronologico tra scritto e parlato. Perché se quando nasce la scrittura precede sempre il parlato e poi segue la scrittura, col passare del tempo ci sono dei testi che vengono prima scritti e poi pronunziati. L'autore può scrivere il testo senza pronunziarlo e successivamente andare a pronunziarlo. Naturalmente con questo andiamo piuttosto avanti nel tempo. C'è una contraddizione abbastanza strana per quanto riguarda la scrittura e il rapporto con il testo, soprattutto poetico. Perché se la scrittura ha tra le sue funzioni e forse tra le principali proprio quella di far memorizzare bene il testo, e c'è il mito che regge questo tipo di costruzione per cui le muse sono figlie di Mnemosine, le muse sono le figlie della dea della memoria, la dea del ricordo ha fatto nascere le muse. Le muse sono frutto della volontà che le cose siano ricordate, poi Platone quando si occupa della scrittura dice che la scrittura è una rovina per la memoria, perché da quando siamo abituati a scrivere non ci ricordiamo più niente. È l'inizio di una vecchia polemica che continua con le calcolatrici che i ragazzini non debbono usare perché non sanno più fare le moltiplicazioni e tutti quanti gli strumenti il cui uso viene considerato negativo ai fini didattici. All'inizio del secolo scorso era vietato usare nelle scuole i dizionari latini fraseologici. Il dizionario del Luciano non era consentito perché c'erano le frasi. Il vocabolario doveva contenere solo il valore semantico della singola parola e non l'intero costrutto perché gli studenti trovavano la frase all'interno del Luciano e la traducevano come in questo dizionario del Luciano. Non c'era ancora internet e la possibilità di usare i telefonini in qualche modo durante i compiti in classe. Oramai il problema è decisamente andato ben oltre. Quindi rimaneva almeno nel mondo antico e la fase in cui c'è un passaggio e la tarda antichità una dichiarazione di maggiore prestigio e assoluta priorità della fase del parlato rispetto allo scritto. Cioè la fase del parlato era comunque il momento più nobile della produzione, della utilizzazione di un testo, della comunicazione. E questo valeva sia nel momento della lettura sia in altre fasi della produzione e rielaborazione del testo. Leggere un testo per noi è per lo più fare una lettura silente di un testo scritto. Noi prendiamo un libro e lo leggiamo sottovoce. Gli antichi non facevano così se non in rarissimi casi, casi assolutamente eccezionali che facevano stupire chi vedeva una persona che leggesse in silenzio. Abbiamo una documentazione interessante perché è prodotta da un professore di scuola, Sant'Agostino, il quale dichiara il proprio stupore nell'aver visto Sant'Ambrogio che leggeva in silenzio. Perché a differenza di tutte le persone normali Sant'Ambrogio aveva la capacità di leggere senza pronunziare le parole che stava leggendo. Sapeva già leggere come noi a differenza di quello che facevano i contemporanei di Sant'Agostino. E loro non sapevano se quando lui faceva questa strana cosa, lo facesse perché stava stanco e voleva fare finta di fare qualcosa, mentre in realtà non faceva niente, oppure avesse dei problemi alla gola e quindi non potesse pronunziare. Lo dice ampiamente nelle sue lettere a proposito di questa situazione. Un altro caso, sempre in Agostino, di silenzio nella lettura è il caso della conversione. Quando sente la voce, la voce dell'angelo, che gli dice tolle, legge, piglia il libro, leggilo. E lui prende il libro, legge e vede perché non può più essere manicheo, non può più essere neoplatonico, deve passare al cristianesimo. Apre quelle pagine, le legge in silenzio e quella lettura silenziosa è una lettura particolare. Non è la normale lettura, è una lettura che viene marcata con un carattere specifico. Nei classici ci sono due di casi in tutto, in cui la lettura è silenziosa. Uno è ricordato da Orazio, è una battuta in un certo senso, si parla di una causa per successione, in cui uno degli potenziali eredi ha intentato causa, e all'improvviso l'altro arriva con un testamento. Questo testamento gli dice, figlia, e leggi che cosa ha lasciato? L'altra parte del tribunale apre e legge in silenzio. Sbianca, diventa di tutti i colori, e legge che in quel testamento, scritto dal defunto, è stato diseredato. Praticamente gli è stato lasciato solo, caro mio, ti lascio il mio saluto, perché il resto lo do a quell'altro, più o meno dice così nella satira, Orazio. L'altro è interessante per una consuetudine che avevano gli antichi e una prudenza che doveva esserci nel leggere. È una delle lettere di Ovidio, le eroides, le lettere delle eroine, la lettera di Cilippe e Aconzio, in cui lei dice che, avendo ricevuto la lettera dell'uomo che la amava, del suo innamorato, la legge in silenzio, perché aveva paura che nella lettera ci fosse una formula che potesse impegnarla. In quanto, se lei avesse letto nella lettera, e l'avesse letto a voce alta, mio caro Aconzio, giuro di essere tua moglie, perché così stava scritto in quel testo, il fatto di averlo pronunziato diventava un impegno solenne, anche se non era la sua volontà, non era la sua intenzione, ma lo aveva detto e quindi era vincolata a quello che aveva detto. Se lo diceva in silenzio, era più tranquilla e più sicura. Bisognava dunque accompagnare con un suono, anche un suono non particolarmente netto, particolarmente chiaro, anche un suono un po' sottovoce, viene definito murmur, murmurio, questo suono, ogni fase della lettura, anche quella di studio. E questo lo dice Quintiliano, suggerendo appunto questa modalità di preparazione con la lettura, e meglio ancora, se questa lettura viene fatta da parte di altri, cioè lo studente incarica qualcun altro di leggere il testo, e lui ascolta il testo che viene letto. Questo perché leggere ad alta voce, anche se era quello che facevano gli antichi, comunque non è una cosa facile, perché gli occhi debbono avanzarsi rispetto al testo, per capire quello che sarà scritto dopo, e pronunziarlo in maniera adeguata, e quindi c'è una sconnessione da quello che fa la bocca, che pronunzia una certa parola, e quello che fanno gli occhi che leggono una parola successiva. Riuscire a capire il testo, a seguire questa necessità di leggere contemporaneamente un po' più a destra, e pronunziare invece un po' più a sinistra, è un problema che facendo leggere ad altri, viene superato, e c'è la possibilità di completare bene la lettura. Imparare a memoria in silenzio, è stato posto infatti anche questo problema, sarebbe la cosa migliore, se non si insinuassero spesso della mente lasciata in qualche modo inoperosa altri pensieri, a causa dei quali la mente deve essere tenuta a destra con la voce, in modo che la memoria sia aiutata dalla duplice attività di parlare ed ascoltare. Ma la voce deve essere misurata, è piuttosto un sussurro. L'oratore che poi impara a memoria il testo che un altro legge, da una parte è più lento, dal momento che la facoltà della vista è più acuta di quella dell'udito, d'altra parte può trarne aiuto, perché dopo aver ascoltato il testo una o due volte, può subito mettere alla prova la memoria e gareggiare con chi legge. Infatti, guardare a destra, come generalmente si consiglia, e osservare anzitempo le parole che seguono, non è soltanto teoria, ma anche pratica, perché a chi guarda le parole successive è pur sempre necessario dire quelle che precedono. E cosa difficilissima, la mente deve sforzarsi di fare una cosa con la voce e un'altra con gli occhi. Non soltanto quando si leggeva il testo si produceva un suono che corrispondesse alle parole che venivano lette, ma anche lo scrittore, chi scriveva nel momento della scrittura, le parole che stava scrivendo con la mano le riproduceva come suono con la bocca. Questo è il terzo passo che di solito si cita ad esempio di questa consuetudine, ancora una volta una delle eroidi ovidiane. Qui però il caso è abbastanza complesso, c'è la traduzione qui perché è un testo piuttosto breve e rapido, in quanto l'indicazione è di come si è scritta una certa cosa fino a quel punto e poi il poeta dice a questo punto io dico al foglio attraverso la mano queste altre cose. Poi a un certo momento la bocca non parla più ed è la mano che parla al foglio con uno spostamento della funzione acustica dalla comunicazione fatta in maniera orale a una comunicazione fatta col tratto della penna. però tutta questa comunicazione è giocata come se coincidesse con il testo che viene scritto, cioè a questo punto succede questa cosa, mentre in realtà nell'ordine logico sarebbe alla fine del testo quando si conclude il testo stesso. Quindi c'è uno spostamento all'interno del testo per cui si dicono delle cose che invece sono alla fine del testo stesso, quindi una complicazione notevole più questa metafora abbastanza forte della mano che parla con il foglio. La scrittura molto spesso era fatta soltanto con la voce e non anche con la mano perché l'autore aveva a disposizione degli scribi, dettava, per cui molti dei testi antichi nascono non con la mano dell'autore accompagnato dalla sua voce ma con la sola voce mentre le mani che scrivono sono di scribi. Anche qui Quintiliano interviene criticando questo sistema perché dice siccome la capacità di scrivere non corrisponde come velocità alla capacità del pensiero e della parola si è rallentati dall'obbligo di rispettare il tempo dello scrive le idee non rimangono nella mente. Quindi le idee dovrebbero essere in qualche modo lasciate libere e c'era la tradizione da parte delle persone che non volevano avere questo impaccio di dettare contemporaneamente più testi. Noi abbiamo la notizia che Cesare dettava contemporaneamente sette lettere cioè dettava una frase a uno poi un'altra, un'altra, un'altra e poi ricominciava ricordandosi sempre a che punto era arrivato nella lettera a ognuno di quegli scribi. Un po' come fanno i giocatori di scacchi quando fanno le multiple che girano da scacchiera a scacchiera e riescono a operare su tutte le scacchiere e anche Cicerone ci dice che Galba era capace di fare nel Brutus era capace di fare questo tipo di lavoro cioè utilizzare tre scribi per scrivere tre opere contemporaneamente. La scrittura non era riservata questo tipo di scrittura non era riservata soltanto agli esponenti della cultura latina in età dell'inizio dell'impero noi sappiamo che anche San Paolo le sue opere le dettava e non le scriveva personalmente quindi i testi paolini passano attraverso questo percorso. E per questo scrivere si dice anche con la sola parola dictare quello che è dettato è in realtà scritto dall'autore e da questo dictare deriva tutta una famiglia di parole in primo luogo il verbo dicto stesso poi la dictazio che nel tardo antico corrisponde a qualunque tipo di opera addirittura con il diminutivo dictaziumcula diminutivo di modestia che Girolamo usa per fare riferimento ai propri testi e da questa immagine del dictazio viene poi in età moderna intendo per moderna l'epoca di Federico II cioè alla fine del Medioevo l'inizio del primo rinascimento del XIII secolo del dictamen e l'ars dictaminis che era appunto la capacità di scrivere le lettere ufficiali come Pier della Vigna e tutta quanta la scuola Curiale Pontificia e Imperiale le due curie che riuscivano ad avere questa produzione di prosa letteraria attraverso questi dictamina e oltre alla lettura e alla scrittura anche la correzione dei testi veniva effettuata a voce alta quella che noi diciamo la correzione delle bozze la rilettura di un testo era a voce alta ed era con l'orecchio che si doveva sentire se c'era un errore leggo delle parole di Guglielmo Cavallo che è uno dei più grandi studiosi di storia della scrittura e del libro nell'antichità la correzione avveniva di regola su basi auditive sia nel caso di revisione dell'autore stesso sia nell'altro della lettura saggio offerta agli amici o fatta da questi ultimi direttamente sullo scritto il testo veniva pronunciato a voce alta e quindi era l'udito che doveva valutarne lingua e stile i passi 4 e 5 sono due testimonianze di questa tecnica di utilizzazione del suono sopra la scrittura e per correggere la scrittura nell'epigramma iniziale del sesto libro la dedica a un suo omonimo che si chiamava anche lui Marziale come il poeta Marziale chiede al suo amico Marziale di correggere il testo e per correggerlo gli chiede al terzo verso quem si terse risaure diligenti se tu lo correggerai col tuo orecchio finissimo quindi questo orecchio terse significa letteralmente laverai pulirai se tu pulirai il mio testo con l'orecchio anche qua una metafora abbastanza impegnativa come la mano che parla con la carta qui c'è l'orecchio che sciacqua il testo che mette in ordine un testo sporco un tipo di metafora che piace a tal punto che cinque secoli più tardi la riprende il nodio il vescovo di Pavia dell'inizio del sesto secolo che parlando di un suo amico conoscente romano preparatissimo e soprattutto che a differenza di tanti altri conservava ancora nell'orecchio il senso della quantità le sillabe brevi e le sillabe lunghe che caratterizzavano il latino dice che questo qui aurium libram tenet incamenis ha la bilancia delle orecchie nella poesia cioè le orecchie di questo sono delle bilance perché riescono a pesare le sillabe brevi e le sillabe lunghe cosa che noi non facciamo più quindi per così dire dall'orecchio lavatrice all'orecchio bilancia con queste abbastanza gustose forme di metafora e la correzione viene fatta attraverso una specie di bisturi che riesce poi a sanare le ferite dove interviene quindi c'è un ulteriore passo perché non è solo la bilancia ma anche l'intervento chirurgico che queste orecchie apportano la conseguenza è che la lettura influenza anche la scrittura del testo perché il testo deve essere comunque tale da poter essere pronunziato secondo gli impegni del fiato non si può scrivere un testo che sia impronunciabile come sono impronunciabili dei testi che abbiano estensione troppo lunga dei periodi per cui non c'è la possibilità di tirare il fiato e soprattutto gli inserimenti di parentesi dentro parentesi che finiscono col rendere impossibile la comprensione di quali siano i rapporti sintattici tra un pezzo e l'altro della frase questo tipo di capacità di contenere il testo attraverso una sua fruizione acustica viene meno quando la fruizione acustica non verrà più usata ed è tipico dei testi medievali essere scritti in maniera da non poter essere pronunciati proprio perché non avevano la necessità di leggerli a voce alta erano testi spesso diretti a ordini monastici prodotti all'interno di ordini monastici che avevano l'obbligo del silenzio e quindi non potevano pronunziare a voce alta quelle parole ci sono alcuni autori un esempio classico è Raterio di Verona il quale scrive dei testi che sono assolutamente non da leggere a voce alta perché non si riesce in nessun modo il più bravo degli attori non riuscirebbe a fare le pause in maniera adeguata periodi che durano pagine e pagine di seguito dove si svolgevano queste fruizioni acustiche dei testi essenzialmente erano due le tipologie di contenitori dove i testi venivano pronunziati soprattutto nella tarda antichità c'erano degli auditoria annessi alle scuole dove i professori facevano mostra della propria capacità di scrittori e facevano fare dei provini agli studenti a cui partecipavano le famiglie e poi i teatri che erano luoghi in cui non si svolgevano più spettacoli teatrali comici e così via caduti in disuso sostituiti da spettacoli osceni che si svolgevano in altre situazioni e invece dedicati a questi tipi di comunicazione testo teatrale che si produce nel Tardo Impero non è un testo per la recitazione abbiamo una commedia il Querulus che è sicuramente non da recitare c'è nei due testi che leggeremo ora uno di Ennodio che parla dell'auditorium e del ruolo che l'auditorium ha nella società Tardo Antica e l'altro invece di Ausonio che parla di quello che succede nei teatri ma non solo nei teatri quando il pubblico ha intenzioni e passioni differenti come il campo di battaglia esalta il soldato il mare i naviganti i tribunali gli avvocati i luoghi sconosciuti i rapinatori così gli auditori stimolano le lingue quale pensiero ragionevole potrebbe infatti suggerire un improbabile silenzio nel luogo in cui sono assegnati dei premi alle parole dove potrebbe essere la palma dei discorsi se qui fossero graditi i taciturni salve dunque fonte di guadagni fiaccole splendore di libertà che ripulendo i nobili germogli con faticoso lavoro di zappa fa in modo che possano essere riconosciuti per i loro frutti e mostri nel candido fiore di una nuova generazione di posteri quanta ricchezza si stia preparando per i nostri granai tu ci riporti dalle tane delle fiere e dai nidi dei gufi a quei fori da cui i nostri antenati si erano allontanati da tanto tempo sì e no sono monosillabi conosciuti che tutti quanti gli uomini adoperano sovente se tu li togli dall'uso non è più possibile svolgere un discorso in essi è tutto e da essi tutto proviene sia nella vita pubblica sia nella vita privata nelle cose agitate oppure in quelle tranquille reciprocamente talvolta spesso tutti e due combattono con impulsi contrastanti a seconda delle nature e dei caratteri così nacque la discussione quando sono d'accordo tutto è presto fatto sì sì ma se vi è controversia il dissenso suonerà no donde i clamori che sollevano i mercati le invettive furiosi del circo l'agitarsi gioioso sui gradini del teatro e anche i dibattiti che appassionano il teatro spose figli e padri si scambiano queste parole con sentimenti pacifici senza che manchi il rispetto nel loro linguaggio essi sono gli strumenti con i quali le scuole agitano con pacifiche controversie dottrinali piacevoli scontri filosofiche contese sono gli strumenti per le dispute di tutta la folla dei filosofi dialettici c'è luce e dunque giorno non è esatto perché di notte torce in gran numero e lumi fan chiaro all'uomo ma questa non è la chiarità del giorno quindi sì e no al tempo stesso quando è evidentemente chiaro ma non è ancora giorno d'onde sorgono mille contrasti così alcuni e sono i più dopo analoghe riflessioni parlano fra i denti rodono la loro rabbia in silenzio bella la vita umana che due monosillabi sconvolgono questo è il grammatico ausonio professore di scuola ausonio che di questa sua professione di professore fece il punto di partenza per una carriera straordinaria per cui divenne prefetto del pretorio per l'occidente ovvero sia capo di tutta la gallia la spagna e l'italia all'interno dell'impero romano perché aveva avuto la fortuna di essere il professore del giovane imperatore il quale il giovane imperatore lo aveva particolarmente amato e lo aveva nominato a questa carica che tenne bisogna dire la verità con capacità in un momento tutt'altro che semplice mentre questa è la fruizione acustica del testo si sviluppa autonomamente una fruizione visiva con il passaggio dal rotolo al volume che consentiva una utilizzazione diversa del testo medesimo con il volume diviso in pagine era possibile confrontare due passi dello stesso libro molto più facilmente bastava prendere una pagina e un'altra pagina mentre il rotolo non consentiva questo passaggio contemporaneo se erano in due punti differenti bisognava srotolare quattro metri di rotolo e poi correre da un lato all'altro per cercare di capire se si piegava si spezzava il rotolo di papiro quindi non era se si girava nel senso opposto si accostavano le due pagine comunque questa evoluzione del libro probabilmente noi la vediamo in una maniera un po' eccessiva perché giustamente ricorda Cavallo che per così dire il libro preesiste al rotolo di papiro perché noi abbiamo delle tavolette fatte con più fogli di legno già prima che ci fossero i rotoli di papiro quindi l'idea di una impaginazione sul tipo del libro è una realtà già di secondo secolo terzo secondo secolo avanti Cristo e quindi in pieno periodo di papiro anche accanto a questa più usuale più normale scrittura su un foglio su un supporto cartaceo su una pergamena ci sono altri testi che vengono denominati le scritture esposte le scritture esposte sono state studiate negli ultimi trent'anni con la loro specificità dagli epigrafisti che dalle iscrizioni su pietra sono poi passati ad esaminare anche i graffiti sulle pareti fatti con una punta che segnava delle lettere dell'alfabeto poi le scritture pittoriche cioè con un pennello colorato come quelle di Pompei con l'invito a votare nelle elezioni per questo o per quell'altro quindi tutta una serie di testi che in qualche modo non hanno una frizione attraverso quell'unico oggetto libro ma sono esposte contemporaneamente alla possibile lettura da parte di molti testi che rientrano nella tradizione scritta ma hanno delle caratteristiche particolari perché un testo epigrafico richiede un modo di lettura differente rispetto a un testo scritto su pagina uno degli epigrafisti più noti degli ultimi anni il professor Sussini fa presente questo il lettore doveva sostare spesso chinarsi ed avvicinarsi per leggere perché quasi sempre i versi quando si trattava di opere in versi sono incisi in righe dai caratteri piuttosto piccoli ancora il lettore poteva ritmare medicamente il testo o ascoltarne la lettura medica fatta da altri naturalmente e scoprirne talvolta i segreti compositivi per esempio gli acrostici che ripetevano nomi di persona o concetti dominanti ecco questo tipo di scrittura che nasce essenzialmente con funzioni funerarie come epitafi come si allarga però a volte a componimenti di decine e decine di versi non ci sono soltanto tre quattro versi che ricordano una persona ma si arriva a testi di 50 60 anche 100 esametri o altri metri in cui di quel personaggio si esaltano alcune qualità si fa una storia della vita una specie di paneggirico della persona che è anche operativo all'interno della battaglia delle idee contemporanee tutti i sostenitori delle idee di cui era stato Paladino il defunto ci tengono a utilizzare quel testo e quindi la lettura di quel testo aperta e vengono utilizzati questi testi anche indipendentemente dalla tomba non solo sul luogo della tomba ma per esempio sotto una statua della persona quindi ci sono vari luoghi in cui è possibile inserire e come si diceva questo tipo di lettura consente addirittura stimola alcuni artifici grafici come quello dell'acrostico cioè fare in modo che le prime lettere diceva scun verso lette di seguito diano delle parole dei significati quindi oltre la lettura orizzontale anche una lettura verticale delle prime lettere spiegavano qualcosa non è una novità di questo periodo già gli alessandrini avevano usato la cosa Cicerone ci dice che Ennio si era scritto in vita l'epitafio per la sua tomba e era un epitafio di sei versi il primo cominciava per la E il secondo per N il terzo per N per cui avevamo Ennius leggendo le prime lettere in modo che si capisse chi era sepolto chi era sepolto lì ci sono altre forme di queste scritture in luoghi non da libro e da comunicazione tradizionale del testo letterario per esempio quelli che vengono chiamati gli apparati o dei testi che sono chiaramente esposti anche perché hanno una raffigurazione di immagini per esempio al passo 8 voi trovate una presentazione che un autore più tardo del sesto secolo fa di una sua poesia figurata cioè una poesia in cui la disposizione delle lettere in una specie di tablo di 37 righi in verticale e 37 colonne in orizzontale quindi 37 linee 37 esametri e 37 lettere per ciascun verso all'interno di questa figura correvano delle linee oblique in cui si leggevano altri versi un tipo di lettura ovviamente molto complessa che richiedeva una quantità di tempo notevole nella lettera che accompagna questo testo dato in dono si dice con quest'opera scritta sulla parete la pittura sorvegli l'ingresso come potrei fare io da portinaio è un ecclesiastico che compone questo testo che scrive a un vescovo che si chiama Siagrio mandandogli questo testo come omaggio e gli dice attacca questo testo all'ingresso di casa tua io vorrei poter essere tuo servitore venire a fare il portinaio da te non lo posso fare ma questo mio testo svolge la funzione dunque un testo poetico attaccato alla parete e non a caso il testo poetico ha il primo verso un po' più lungo che è fatto su due linee oblique con una croce al centro che raffigura un chiodo quindi proprio un quadro appeso alla parete in modo che ci potesse essere questa poesia sulla croce sul ruolo che la croce ha per il cristiano e così via rispetto a questo insieme di testi che possono anche comprendere alcuni cartigli che stavano sui vari ambienti di una casa oppure sugli scaffali e così via ci soffermiamo a conclusione su una particolarissima forma di scrittura che ci è documentata ancora da quel poeta Ausonio Ausonio ci parla e è quello che più ampiamente ci raffigura questo tipo di consuetudine di scritture fatte sui vestiti testi scritti su indumenti indossati dalle persone e il riferimento è alla sua coniuge a sua moglie Sabina la quale era capace di tessere i vestiti e di fare dei versi e di scrivere sulle sue vesti i versi che lei stessa componeva cioè Sabina indossava i suoi versi con i vestiti che lei stessa si faceva leggo io i tre testi 9 10 e 11 che comprendono tre argomenti che hanno la medesima finalità cioè raccontare i versi in veste con texti vestiti e dei versi che sono in tessuti su questi vestiti c'è stato un problema a lungo di discussione se questi versus in veste con texti fossero questi versi qui cioè che questi erano i versi scritti sui vestiti o più probabilmente quello è un titolo che dice io qui canto di casi in cui dei versi erano scritti ma non questi perché questi versi non sono di Sabina questi sono versi di Ausonio ed è difficile che lei potesse scrivere dei versi in cui si fa tanti complimenti come qui item e item significa lo stesso argomento e lo stesso argomento vi leggo le tre traduzioni che ha dato Pastorino per la UTET il primo l'Oriente può pure esaltare come una delle sue glorie le tele di Persia e tu o Grecia intessi con tutti le oro i tuoi mantelli purché non sia meno celebre la fama della Sabina di Ausonio che evitando il loro dispendio eguaglia la loro abilità in questo caso è un problema economico la poesia che usa per abbellire i suoi vestiti vale più dell'oro e degli altri oggetti preziosi che vengono usati in altre fabbriche di vesti perché Sabina è anche capace di rispermare e fare bella figura usando la poesia come abbellimento della veste il secondo epigramma sia che tu lodi la veste intessuta di trama di tiro cioè con il rosso della porpora sia che ti piaccia la graziosa iscrizione l'una e l'altra sono opera della bella padrona Sabina da sola coltiva queste due arti e qui c'è un passo in più cioè la capacità della autrice dei versi di essere anche autrice della veste donna di casa e poetessa potremmo dire e infine il terzo coloro che intessono stoffe e versi offrono i versi alle muse e a te casta Minerva le stoffe ma io Sabina non dissocierò due cose inseparabili perché ho trapunto sui miei drappi i miei versi quindi non ut pictura poesis che è la forma classica oraziana la poesia è un po' come la pittura è possibile inventare qualcosa che non sia reale ma in questo caso abbiamo ut textura poesis quindi la poesia è una raffigurazione tessile e la capacità di intrecciare qualcosa in un vestito questi carmi acquistano un significato particolare nel momento in cui sappiamo chi era questa Sabina e che cosa aveva significato per Ausonio la sua morte a 27 anni perché Sabina era morta giovanissima a 27 anni e Ausonio era sopravvissuto molto a lungo a questa perdita nella famiglia di Ausonio sono tutti nonagenati il padre lui i figli tutti superano i 90 anni per quello che possiamo sapere per quello che abbiamo come notizia di costruzione quindi una lunghissima redovanza che vive nel ricordo di questa moglie e infatti nel lungo passo che trovate al punto 12 avete il ricordo di Sabina scritto dallo stesso Ausonio in uno dei suoi parentali a gli epitafi non veri ma poetici che componeva per i parenti defunti fino a questo momento il mio canto funebre ha celebrato parenti assai cari e ben degni dei pianti versati alle loro esequie i suoi pie accenti hanno pagato il mio debito alla loro memoria ora devo ricordare quello che per me è un dolore una tortura un fulmine che mi brucia la morte della mia sposa rapitami immaturamente nobili erano i suoi antenati e di discendenza senatoria era illustre per nascita ma più illustre ancora era la mia Sabina per le sue rare virtù ancora giovane ti ho pianto privato nei miei verdi anni delle mie speranze vedo ti piango ancora dopo nove olimpiadi ora vecchio non riesco a lenire il mio dolore che sempre ogni giorno mi si ravviva come se fosse di ieri che se alcuni riescono a ricevere dal tempo una consolazione alla loro pena col passare degli anni invece la mia ferita si aggrava vedo tortura la mia canizia delusa e la solitudine non fa che rendere più tormentosa la mia tristezza nel silenzio della casa muta nel gelo del letto la mia ferita si allarga poiché non posso rendere partecipe nessuno né di dolori né di gioie mi sento afflitto se altri ha una buona moglie ancor più mi affliggo se ne ha una malvagia tu sei sempre presente come punto di paragone nell'un caso e nell'altro il pensare a te è per me un supplizio sei una malvagia perché tu sei stata diversa sei buona perché sei stata come lei e non mi rammarico per le ricchezze inutili e nemmeno per i piaceri vani ma perché così giovane sei stata rapita al tuo giovane sposo gaia pudica riflessiva nobile per nascita e per bellezza tu sei stata il dolore e la fierezza di tuo marito ausonio eri sulla soglia dei ventott'anni quando hai abbandonato due figli che erano il nostro pegno d'amore per grazia di Dio fioriscono come avevi sperato nell'abbondanza di quei beni che desideravi per loro e faccio voti che crescano vigorosi perché un giorno il mio cenere possa annunziare al tuo che tutti e due sopravvivono questa vicenda personale complica naturalmente la lettura anche di quei tre epigrammi sono stati scritti quando aveva ancora 26 25 anni la ragazza la signora e quindi era ancora in vita e non c'era quella cessazione dell'esistenza oppure era già scomparsa ed è un ricordo di quello che lei poteva fare noi purtroppo non abbiamo una possibilità di ricostruire la cronologia dei componimenti ausoniani e un componimento in età particolarmente giovanile renderebbe più semplice la comprensione di tutto anche perché abbiamo altri due testi relativi alla moglie o a una moglie non di ausonio cioè potrebbero essere testi che riguardano Sabina ed è quasi certo che sia così o per altri potrebbero essere testi immaginati per una signora da parte di un qualunque altro uomo cioè raffigurazione di un tipo e non della signora stessa il 13 è quasi una battuta ancora più difficile da immaginare se lei fosse già finita se lei non ci fosse più lo leggo io il titolo dice l'opinione che di lui aveva sua moglie questi titoli noi non siamo certi che siano di ausonio è probabile che siano stati messi dopo se il titolo fosse di ausonio quella aveva ci darebbe già un'indicazione aveva quando era viva se invece come è quasi certo è un'indicazione successiva quando ausonio e la moglie erano tutti e due scomparsi ti ha messo il titolo uso un tempo del passato perché per lui era una vicenda del passato mentre mia moglie leggeva nei miei versi i nomi di reputazione equivoca delle laidi e delle glicere disse che io scherzavo e mi divertivo inventando amori irreali tanta fiducia nella mia fedeltà questo naturalmente poi si può leggere in tutti i modi possibili immaginabili se fosse fiducia nella fedeltà o in qualche altra cosa e se ausonio nel dire tanta fiducia nella fedeltà volesse dire che aveva ragione ad avere fiducia o che era troppo fiduciosa rispetto a quello che sarebbe stato opportuno gioco consapevole ancora di più forse da immaginare fatto quando ancora sono giovani ragazzi sia ausonio sia la signora poi scomparsa ma ancora più drammatico è in un certo senso l'ultimo degli epigrammi che riguardano la moglie quel aduc sorem che è il numero 14 perché è un augurio di lunga vita di lunga vita fino a tardissima età che sarebbe veramente stridente se fosse stato immaginato dopo la morte della signora e dovrebbe essere costruito casomai per un altro matrimonio di altre persone torniamo a vivere o moglie mia i giorni vissuti e chiamiamoci ancora coi nomi che ci siamo dati la prima notte il tempo coi suoi giorni che passano non cambi nulla per noi che io sia sempre per te il tuo ragazzo e tu per me la mia fanciulla anche se io fossi più vecchio di Nestore e tu fossi vittoriosa rivale della cumana dei ifove ignoriamo che cosa sia la maturità della vecchiaia conviene conoscere il valore dell'età non contarne gli anni un ultimo testo che viene qui riportato ci riporta alla consuetudine di scrivere sugli indumenti perché come dicevo anche se questa di Ausonio e di Sabina è la più diffusa la più ampia consuetudine di scrivere sugli indumenti non è l'unica infatti in questo componimento numero 15 Ausonio traduce un epigramma di Asclepiade un epigramma di Asclepiade che affronta il medesimo argomento ne leggo la traduzione una fascia di porpora circondava i turgi di seni di Ermione e portava in tessuto questo distico o tu che leggi queste parole sappi che Venere ti ordina di amarmi e di non impedire che altri seguendo il tuo esempio mi ami dunque un invito all'amore e al tempo stesso alla libertà al rifiuto di qualunque forma di gelosia il modello Asclepiadeo è un modello nettissimo e anche molto più esplicito di quanto sia nella poesia latina il latino è molto più edulcorato rispetto alle libertà che Ermione pretende per sé e scrive sul suo reggiseno un luogo dove la lettura è riservata naturalmente ad alcuni intimi per così dire mi sembra evidente ora collegare questo tipo di scrittura e quello sulle vesti della signora è naturalmente una operazione del tutto illecita per cui quel verso exemplocue tuo neminem amare vetes è stato interpretato anche in una maniera un po' meno impegnativa perché noi abbiamo un componimento epigrafico in cui ritorna un tema di questo genere quis 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 quissamat valeat quinescit amare chi è innamorato stia bene in salute e muoia chi non è capace di amare bis tanto pereat quis quiss amare vetat e muoia il doppio chi impedisce ad altri di amare quindi il discorso potrebbe anche dire exemplocue tuo neminem amare vetes un'altra donna non la medesima che indossa questo testo con questa scrittura quindi non impedire a nessuno di essere innamorato però il testo di Asclepia non va in questa direzione conclusioni noi non abbiamo il testo di Sabina e questo è un grandissimo peccato perché se sapessimo che cosa aveva scritto questa donna e di che cosa si vestiva avremmo la possibilità di capire fino in fondo la sua genialità dove arrivava purtroppo noi non abbiamo molte poetesse latine e i nomi che ci sono pervenuti non sono nemmeno tutti sicuri in alcuni casi potrebbero non essere delle poetesse ma dei personaggi di poetessa cioè potrebbe esserci un poeta maschio dietro che inventa il nome di questa scrittrice e scrive il nome suo questo ci viene come idea soprattutto perché tra le pochissime che abbiamo tre hanno lo stesso nome si chiamano Sulpicia e è possibilissimo che il nome di una sia stato riproposto in epoche successive perché Sulpicia era il nome della poetessa la poetessa donna quindi uno che voleva scrivere una poesia al femminile ci metteva il nome della poetessa nota al femminile la grandezza di di Sabina è di trasformare quello che era una scrittura per così dire intima sul vestito interni ricordata appunto in Asclepia e poi nell'ultimo epigramma in una scrittura esterna cioè fare di se stessa la portatrice del suo testo una sorta di donna sandwich che anticipa al quarto secolo i moderni vestiti che sono scritti con nomi versi poesie le magliette che portano i giovani da 30 anni 20 anni a questa parte con questa abitudine di inserire opere letterarie sul loro corpo al tempo stesso lei non dimentica mai di essere donna perché tesse questo secondo le consuetudini femminili non sarà facile capire se è una tessitura e trama se è un ricamo sul tessuto e tutto sommato conta molto poco quello che ci interessa è invece la capacità che ha di vivere in proprio la propria poesia a tal punto da indossarla è una sorta di contributo femminile a quella modernità del tardo antico che negli ultimi anni si sta rilanciando e che ha un punto di riferimento molto forte in un altro caso che riguarda la vista che riguarda la possibilità di cogliere con gli occhi qualcosa ma stavolta la pittura ma una pittura che ci è comunicata attraverso delle poesie qualche anno dopo Ausonio e in una zona diversa non la Gallia ma l'Africa settentrionale abbiamo durante l'occupazione vandalica dell'Africa settentrionale un poeta che si chiama Lussorio il quale dedica alcuni dei suoi epigrammi a illustrare le bellezze delle case dei signori barbarici dei signori vandalici che si erano impadroniti delle case dei nobili romani e le avevano abbellite al loro gusto ci sono due epigrammi di Lussorio relativi a un quadro che c'era nella casa di un signore vandalico questo quadro rappresentava un cacciatore con l'arco e ci dice Lussorio il pittore nel dipingere il cacciatore ha messo gli occhi al loro giusto posto gli occhi non stanno sul volto ma stanno sulla mano perché è la mano che prende la mira nei riguardi della fiera che deve essere colpita dalla freccia con delle variazioni l'immagine è questa di una metafora pittorica in cui noi abbiamo un evidente precedente di analoge iniziative pittoriche che traspongono gli oggetti e le parti del corpo per ottenere una funzionalità di messaggio di comunicazione nel campo dell'indumento della poesia legata alla figura femminile la poetessa sabina aveva fatto un gesto della stessa provocatorietà e della stessa capacità del poeta raccontato dall'ussorio grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti